Ciao a tutti ragazzi, oggi cominciamo la seconda parte di questo playthrough in italiano di MegaManLegends Allora, l'ultima volta, se vi ricordate, ci siamo lasciati dopo aver circa salvato il municipio Ma circa, perché voglio dire, la banca per esempio ha fatto una bruttissima fine Non vi preoccupate, la ripareremo in qualche modo, spero Quanti soldi abbiamo? Abbiamo pochissimi soldi, ma in qualche modo troveremo insomma un po' di zenni Per riparare almeno la banca e la centrale di polizia Mamma mia, vabbè, abbiamo salvato il municipio, è già qualcosa dai Allora, adesso siamo diretti nelle pianure di Yas, dove a quanto pare i pirati stanno appunto continuando il loro attacco Quindi, vediamo che ci dice il poliziotto L'ispettore è andato ad arrestare i pirati Avrei voluto seguirlo, ma è importante che qualcuno resti qui per proteggere il sitaco Quindi, andiamo Ehi, arriva qualcuno Ma non sembra un poliziotto Ehi, ma è il ragazzino blu Lo batteremo come abbiamo fatto con l'ispettore La volta non perderemo Mamma mia Terribile Bene, ragazzi Allora Come potete vedere È molto facile liberarsi di questi carri armati Un pochino perché, diciamo Secondo me, per il momento abbiamo un livello d'attacco abbastanza alto Quindi Stiamo andando alla grande E allora Qui c'è la macchina della polizia che ha fatto una finaccia Ah, aiuto Andiamo a vedere chi c'è dentro la casetta Chiaramente Ci sono i poliziotti, l'ispettore e un paio di persone Allora Non è mai successo nulla di simile su quest'isola Neanche le armi della polizia bastano per fermare i pirati E le loro diavolerie meccaniche E vabbò Pensavo che nelle pianure sarei stata al sicuro Invece Quei pirati sono proprio ovunque Magari questa è la leggendaria disgrazia che dovrebbe colpire l'isola Può essere Poliziotto, che ci dici tu? Non ci aspettavamo che fossero così forti Credevamo che fossero dei ladruncoli da strapazzo Invece l'ispettore Ah, sei tu Quei carri armati sono troppo potenti Non possiamo neanche avvicinarci È solo questione di tempo prima che trovi nel tesoro Bisogna fare qualcosa Ma cosa? Vabbè, insomma Praticamente ci sta dicendo Pensaci tu Megaman Salva la situazione Mamma mia Mi piace un sacco questa musica Sicuramente ci avrete fatto caso La maggior parte delle tracce di Megaman Legends Non sono particolarmente lunghe o complesse Ma sono belle Non lo so Penso che questo sia un loop di tipo 10 secondi 20-30 secondi Pochissimo comunque Siamo ai livelli di una traccia Pernesse quasi Però è proprio bella Io le trovo iconiche Oddio Può darsi che sia Anche perché Diciamo Legends è un gioco che Sono abbastanza Abbastanza legato Però In generale Voi vorrei sapere anche da voi Magari Soprattutto da chi non conosce il gioco Da chi lo sta Vedendo in blind con me Per tutti e quattro E quattro degli spettatori Che lo stanno facendo Ditemi che cosa ne pensate Se è solo un'impressione mia O se effettivamente Legends è Diciamo Invecchiato bene Anche da questo punto di vista Adesso non voglio fare Discorsi estremamente tecnici Però Secondo me Anche Non so In qualche modo Capcom ha trovato il modo Di rendere il gioco Non lo so Di farlo invecchiare Molto bene Se ci fate caso Praticamente Una Tecnica interessante Che hanno usato È il fatto che Praticamente Non esistono proprio Ombre Da un lato Perché chiaramente Sarebbe stato difficile Per la Playstation Supportarle Credo che ne supportasse Adesso io non voglio dire Cavolate Perché non sono Assolutamente esperto In questo campo Però in generale Non si è buggato Il carro armato Però in generale La Playstation Era capace di Come dire Di renderizzare Delle ombre Dinamiche Però credo Solamente Cioè Delle ombre Molto 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 semplici Ecco Quindi Insomma nel caso Di Legends Praticamente L'idea È stata quella Di Aggiungere direttamente Le ombre Alle texture Adesso non si nota Tanto Ma vedrete che Nelle cutscene Per esempio Proprio Sul viso Del Dei personaggi Ci sono Le texture Che dovrebbero Rappresentare Proprio L'ombra Che magari Fanno i capelli O una determinata Angolazione Cioè Anche le bocche Per esempio Sembrano spesso Tridimensionali Non lo sono Veramente Ma Cioè Sono proprio Pensate Per essere Visualizzate A una certa Angolatura Quindi E quindi Praticamente Sembrano Tridimensionali Che è una figata Secondo me Allora Stiamo prendendo Una via Un pochino Differente Da quella Che pensavo Insomma Di fare Ma Mi sono detto Magari È meglio Cercare Di recuperare Qualche soldino Qualche cosa Nelle Nelle rovine Prima di Di andare A combattere Contro il boss Perché Non si sa mai Voglio dire Questo è Principalmente Ve l'ho detto Un playthrough In cui Finiremo La storia Magari Anche Ahia Magari anche Qualche side quest Però è Principalmente Per farvi vedere La patch Quindi non voglio Fare cose Estremamente Complese Cioè Non penso Che troveremo Tutte le armi Che Che cercheremo Tutti i tesori Ah Ecco Esplodi Grazie You found Cannot gate Dai E mi sa che In realtà Non possiamo Prendere altro Qua Com'è No forse C'è qualcos'altro Da queste parti No Mamma mia Sono venuto Fin qua giù Pensavo di trovare Grandi tesori Invece Invece Mi sa che Non c'è Nient'altro Perché se Non mi ricordo male Dietro questa Dietro questa Porta c'è Un salto Che non Possiamo fare Ecco Appunto E quindi Niente Vabbè Così avete visto Anche un po' Le rovine Le rovine Insomma Del gioco Queste sono Come dire Le rovine Minori Potremmo Definirle Cioè Sono degli accessi Per il sottosuolo Però Non sono effettivamente I subgate Non sono Le rovine Principali Quelle In cui cercano Di entrare I pirati Ecco Allora Adesso Adesso torniamo In superficie Dopo esserci fatti Questa bella Scarpinata Intanto abbiamo trovato Qualche zenni Che non fa mai male Ok Rispawn Rispawn Beh dai Altri soldi Per noi Ah ragazzi Qui c'è anche Un bel fiorellino Perché voi Non lo sapevate Ma questo è anche Un dating sim Cioè Non gli manca niente A Mega Man Legends Ai ai Ma è presto Insomma Lo vedremo più tardi Mega Man I pirati stanno scavando Un'enorme buca Dall'altra parte Di questo tunnel Mi raccomando Stai attento Allora Ricarica energia Parlami Wow Sei arrivato fin qui Hai paura? Beh certo che no Ne ero sicuro Forza Liberiamoci di questi pirati E torniamo da roll Ma prima che Ma Eh Aiuto Ma prima Chi ne diresti di salvare? Allora Salviamo Salviamo o no Ma si salviamo ragazzi Mamma mia No non si sa mai Perché questa Boss fight Io sono veramente Faccio veramente schifo A questo gioco Quindi nel dubbio Noi salviamo Perché Non vorrei Dovermi rifare Tutto questo pezzo Insomma Vediamo come va Ecco Anche perché Non ho Non ho preso Delle particolari Armi speciali Che potrebbero essere utili Contro questo boss Quindi Maledizione Continuo a scavare ancora e ancora Eppure non se ne viene a capo Mi sa che quella chiave ci serviva davvero Padron teaser Siamo stati sconfitti Quel brutto tipo blu Sta venendo qui Davvero? Interrompete gli scavi La nostra priorità È fare fuori Il moccioso vestito di blu Capito? Non lasciatevi ingannare Dal suo aspetto Sarà anche un ragazzino Ma sconfitto Bon e Tron Ai vostri posti Roger Eccolo qua Mamma mia Che bello Diesel Allora Scontro con Diesel Bon Distrugge la macchina scavatrice Marwolf Il robot ha una corazza indistruttibile Il suo unico punto debole È il portello in cima Spara i cingoli Per rallentare il robot Poi saltagli sopra E spara il portello Quando si apre Inizia la missione Molto easy Allora Quindi Mamma mia Come l'ho schivato Non lo so Mamma mia Aia Mamma mia E intanto I cingoli li abbiamo sistemati Quindi adesso rallenta Sensibilmente Diciamo Quando si muove Tra l'altro Posso dire una cosa Cioè Piccolo shout out Al doppiatore Aiuto Al doppiatore di Diesel Che veramente Io quando l'ho sentito Ho detto È Diesel È perfetto È veramente perfetto Secondo me So che Cioè Dirlo così Poi soprattutto Magari a chi Non conosce Il doppiatore originale Che vabbè Ne ha fatte Diciamo Né che sia proprio Il massimo Il doppiatore originale Però Uff Madonna Come ci sono salito Non lo so manco io Però in generale A parte quello che ha fatto Nella vita privata Cercare Velo caso mai Ma Chiudete il portello Ma In generale Come doppiatore Era veramente Bravo Cioè io Prima di saperlo Cioè Consideravo uno dei Più bravi Praticamente Non lo so Ci sono rimasto Molto Molto affezionato Opla Però Quando ho sentito La voce Di Questo doppiatore Si chiama Alessandro Ma Vedete Quel Portello Ho detto Se Tiselle Avesse avuto Una voce italiana Sarebbe stata questa Che sto decombinando Spegnete il fuoco Spegnetelo Distintori automatici Sono fuori uso Cosa Ma Ma Non è possibile Sono stato sconfitto Da uno stupido Boccioso Hai idea Di quanto Mi sia costato Costruire quel robot Giuro che Te la farò pagare Forse l'ultima cosa Che faccio Te la farò pagare Padron Tiselle Si sente bene? Padron Tiselle Non lo passerai Liscia Ti farò a pezzi Moccioso È una promessa Si torna a casa Mamma mia ragazzi Non mi ricordo Se Se ne avevo già parlato Ma Vi devo proprio dire Che Sistemare Il doppiaggio Qua è stato un casino Veramente Cioè non in questa scena In particolare Ma Cioè praticamente Tutte le cutscene Hanno Cioè hanno Una sola traccia audio Quindi praticamente Il modo in cui Viene gestito Il doppiaggio In queste scene È che Praticamente C'è È solo una traccia Con la musica Gli effetti sonori Le voci E quindi Tante volte Ho dovuto Ricreare L'intera scena Da zero Mamma mia Per trovare Certi effetti sonori Mi sono fatto Una cultura Sui sound effects E E ho scoperto Che soprattutto I suoni Delle Macchine idrauliche Sono quelli Che spesso Si usano Per Insomma Per Per i Marchingegni Robotici Negli anime Cioè sicuramente L'avete sentiti Sono proprio Effetti di macchine idrauliche Io questa cosa Non la sapevo Poi però Cercando Cercando Degli effetti sonori Che andassero bene Per certe scene Tipo questa Del portello Che si alza Ho scoperto Questa cosa Vabbè Andiamo avanti Megaman Mi senti Il sindaco Dice Che vuole parlarti Puoi tornare qui Puoi tornare qui No Mi sa che la radio Non funziona Che cosa hai detto Parlerai con il sindaco Vero Megaman Ok Ci vediamo al municipio Anche Megaman C'ha una voce Molto bella Secondo me C'è adotta al personaggio Che fastidio Quel boccioso ci ha colto Alla sprovvista La prossima volta Gli daremo del filo da torcere Gli tenderemo un'imboscata Concentreremo il fuoco su di lui E noi gli daremo tregua Sfruttando la maggioranza numerica Per distruggerlo Così si parla Tizen Ho già in mente il robot Che fa il caso nostro Vedrai Allora è deciso Prima ci ebriamo di quel mocioso E poi rubiamo il tesoro No l'aeroplatino Che buono questo teo Ottimo lavoro Megaman Hai fatto vedere ai pirati Chi è che comanda Megaman Come potrò mai ringraziarti Spero che i pirati Abbiano imparato la lezione Per fortuna Non hanno trovato il tesoro La leggenda dice Che di sotterrandolo Una catastrofe Si abbatterà sull'isola Anche se è solo una leggenda Stiamo rilevando Un'elevata attività sottoterra Pare che i riverbot Si stiano attivando autonomamente Sono preoccupata Forse la leggenda Cela un fondo di verità Chissà Megaman Saresti disposto Ad esplorare Le rovine della città Potresti scoprire qualcosa Dobbiamo dire Di no Guarda Sotto lo sguardo impassibile Di Varal Che ci Ci sta minacciando Praticamente Ci sta fulminando Se dici di no Ti picchio E tu saresti uno scavatore Come puoi rifiutare Una simile offerta Folle Lo farai davvero Oh grazie mille Prendi questa Ti servirà La licenza di classe A È riservata ai migliori scavatori Te la sei meritata Con questa licenza Potrai accedere alle rovine sigillate Quelle in cui volevano entrare i pirati Ti autorizzo a scavare Nei subgate della città In cambio Ti chiedo solo di riferirmi Tutto ciò che scoprirai Sul tesoro E la catastrofe Che aleggia su di esso E Mi vergogno a chiederlo Ma Se dovessi trovare Qualche rifrattore Gradirei molto Se li donassi Per contribuire Alla ricostruzione Della città Grazie mille E fa attenzione Bene E quindi noi dovremmo già In teoria donare Non credo che lo faremo adesso Perché abbiamo ancora Pochi Pochi soldi Ma Vediamo un attimo Che cosa dobbiamo ricostruire In realtà Vediamo un po' Tutto Tutto praticamente La La polizia diciamo Cerchiamo di Ricostruirla subito Perché altrimenti Non possiamo fare Alcune subquest E Quindi Anzi ci siamo salvati 2500 zenni Non sono manco tantissimi Dai Mi sento un mostro A non ricostruire tutto subito Ma ci servono i soldi Mamma mia Allora Ho scoperto Che ci sono tre grandi rovine Sotterranee Su quest'isola Chiamate Subgate Il primo Subgate Si trova nella foresta Cardon Dove siamo atterrati Il secondo Si trova nella zona Dei quartieri alti Nel bel mezzo Di un lago E infine L'ultimo È situato a nord Nel Bosco Closer Proprio dove hai combattuto Contro il Marwolf Da quale subgate Vuoi iniziare? Eh Boh Eh Sicuramente Non da quello Del Bosco Closer Non è il caso Vediamo se c'è qualcosa Di interessante Che ci dicono i personaggi Tu credi che i pirati Si siano Si siano Non so parlare Tu credi che i pirati Si siano davvero arresi? Mamma mia Ma perché mi seguite Ragazzi? Perché vi guardate Questi video? Non so neanche Parlare Dire due parole Ah Quindi è qui che devo lasciare I documenti Giusto? Dai Siamo ancora sommersi Di documenti Sic E vabbè Vabbè Documenti Pratiche da sbrigare Mamma mia Pure io A volte ho fatto Delle scelte Discutibili Allora Ciao signore Ma quei pirati Non potevano restarsene a casa Si stava così bene Prima che venissero qui È vero È vero Allora A questo punto Sono veramente indeciso Penso che Potremmo direttamente Andare Ma sì Dai Andiamo direttamente A Diciamo A svolgere La prossima missione Il nostro prossimo compito Gente Gente Vediamo se c'è qualcuno Interessante Con cui parla La gente pensa Che i pirati Siano una catastrofe Leggendaria No scusè La gente pensa davvero Che i pirati Siano una catastrofe Leggendaria Fanfaluke Conosco bene la leggenda È la vera catastrofe Ucciderà tutti gli abitanti Dell'isola È una leggenda Piuttosto magabra Allora Vediamo se c'è qualcosa Di interessante Da vedere In biblioteca Ciao Questa è la biblioteca Non mi ricordo se ci siamo entrati Nello scorso episodio Quindi nel dubbio Ora che i pirati sono andati via Siamo di nuovo aperti Bene L'atmosfera L'atmosfera della biblioteca Mi fa venire voglia di studiare Solo a te Ehm Vediamo Non ci sono libri che Parlano della storia dell'isola Non lo trovi strano? Oh beh Non che me ne freghi nulla Vabbè Ok Possiamo andare avanti Dai Allora Qui dobbiamo andare a sud Vediamo Come va Ehm Parliamo un po' Con un po' di gente Stavo passeggiando Nella foresta Cardon Quando all'improvviso Ho visto Un dannato carro armato Ma ti sembra normale? Quei pirati sono completamente Pazzi Vado a dirlo alla polizia Ehm Vabbè Non so se c'è qualcos'altro Che possiamo fare Nel frattempo Sinceramente Vediamo Venghino si ori Venghino Ho la verdura più fresca E la moglie più bella Della città Giuro È quello che dice Dice che La verdura più fresca E la moglie più bella Mamma mia Ehm Bene ragazzi A questo punto Possiamo andare avanti Stiamo andando Verso il nostro primo subgate Sono un scavatore freelance Sto cercando qualche tesoro Ma finora Non ho trovato Mezzo rifrattore Beh Però Mi spiace Ci ho fatto caso Un po' traducendo Che Praticamente Quasi tutte le persone Che incontriamo Che vogliono fare Gli scavatori Non ci riescono Per un motivo O per un altro Perché non hanno la licenza O perché Sono sfortunati E non trovano tesori Spero che la tua Spero che la tua aeronave Venga riparata Design leggermente più Come dire Particolare Rispetto a A quello Degli altri Abitanti E questo perché In origine Doveva diventare Praticamente Il rivale Di Mega Man E Lui E Mega Man Si sarebbero dovuti Contendere Tra molte virgolette Roll Quindi creando Un triangolo amoroso Un po' particolare Anzi Che forse Sarebbe diventato Un quadrato Perché considerando Che c'è pure Tron Non so come Si sarebbe evoluta La situazione Fatto sta Che doveva essere L'ennesimo interesse Amoroso E rivale per Mega Man Allora Stavo cercando Di funghi Dall'altra parte Di questo passaggio Quando un carro armato È sbucato dal nulla Io me la do a gambe Brava Va bene Tra l'altro Come corre la signora E quindi niente Questa secondo me È una cosa Interessante Un peccato Che non l'abbiano Implementata Perché Sembra molto Cioè si vede Che Legends Dobbiamo guadagnare tempo Finché Mistron Non finisce il robot All'attacco ragazzi Dimostriamo a Mistron Quanto paghiamo Dicevo Che si vede Che Legends Come progetto È stato Molto semplificato Cioè Quello che avevano in mente Inafune E Diciamo Lo staff di Capcom Era secondo me Un po' più Un po' più grande Però non hanno potuto farlo Forse per l'art Forse per il tempo Però si nota Insomma Secondo me Sono qui per aiutarti Mega Man Non posso fare molto Ma Se sei in difficoltà Entra in macchina E ti porterò via Di qui Resisti Megaman Ci siamo quasi Mamma mia Io apprezzo molto Il contributo De Diciamo Della doppiatrice di roll È stata Gentilissima È stata bravissima Però Però alle volte Non poteva urlare Secondo me Questo si sente Un pochino Ma va bene Lo accettiamo Anche perché Ripeto È stata veramente Un tesoro E poi Non avete idea Di quanto parla roll Cioè Veramente Ho fatto un lavoro Bello lungo Perché io Che avevo Praticamente Tutte parti Abbastanza Piccoline Tante Ma Piuttosto corte Mi sono stancato Tantissimo A doppiare Quindi mi immagino Lei Anzi Veramente Non so se si guarderà Il Il play through Ma Mi devo fare i complimenti Lei devo fare i complimenti Adesso Noi dobbiamo fare una cosa Che Ecco Oh scusa Megaman Dai Ops Non ti avevo visto Dai Ancora Scusa Megaman Sto ancora imparando Come si guida Purtroppo Io questo lo devo fare Tutte le volte È proprio necessario Mi devo far colpire Per sentire questi dialoghi Quando li ho scoperti Quasi per caso Nel gioco originale Ci sono rimaste Totalmente male Ho detto Ma come Però Giustamente Che poi roll Canonicamente Ha 14 anni In questo gioco Quindi non so Neanche se può Effettivamente guidare Adesso lo sfondo Sta indietro Megaman Sbambo Bene Adesso Ricaricaci la vita Per favore Wow Megaman Com'è carino Quel flower Mamma mia Prendilo tu Dai Davvero? Oh grazie Megaman Vado subito A metterlo In un vaso Perché noi siamo Gentili Quindi se no Potrei anche Non darglielo il fiore Tadam Ho usato il cannon kit Per creare l'arma Powered Buster Fantastico Ho costruito Una nuova arma Per te Quest'arma Ha un'ampia gittata I suoi attacchi Sono potenti Ma ha una bassa Cadenza di fuoco Ricordalo Quando equipaggi l'arma Ma a noi Non ci interessa Quindi Parliamo solo con data Io voglio solo l'energia Ridammi l'energia Let's go Eccoci ragazzi Siamo al primissimo Subgate Allora Mi senti Megaman Rilevo dei picchi Di energia Vicino a te Sembrerebbe Un rifrattore Credo sia Bello grosso Mamma mia No aspettate Questa ve la devo raccontare No Me lo dovete dire Anche voi Perché Ho ricevuto Insomma Un commento E Dicevano Perché effettivamente Roll Le ho fatto dire Credo sia bello grosso E lo dice sempre In relazione ai rifrattori Però Non è che dice Questo rifrattore È bello grosso Dice Credo sia bello grosso E qualcuno ha commentato Il cazzo Madonna Sono morto Letteralmente Perché io non ci ho pensato Non ci ho pensato Mi sono sentito un idiota Mamma mia Per carità Volendo si può sistemare Il problema è che Dato che È sempre Roll Che parla di rifrattori Comunque lei Qui è doppiata Quindi Dovrei anche Richiamare la doppiatrice E dirle Senti Mi puoi rifare Questa line Me la Me la rifai da capo Che si può fare È leggermente più difficile Però volendo si può fare Anche perché Effettivamente Non ci avevo pensato Ma quando me l'hanno detto Ho detto Cacchio È vero Cioè Madonna È super freintendibile Mamma mia Sono scemo Sono scemo Ma anzi È strano che nessuno di voi Me l'abbia detto Nell'altro Nell'altro video Perché C'è una volta che ci ho pensato È impossibile Non pensarci più Il rifrattore è protetto Di solito I rifrattori ad alta energia Sono protetti Da una barriera Devi trovare Il pannello di controllo E disattivare La barriera Qui Qui Roll Ci ha praticamente avuto Un mood shift Pazzesco Perché per caso Il rifrattore è protetto Devi trovare Il pannello di controllo Va bene Sei molto contenta Roll Non va Temo che manchi La chiave di avviamento Probabilmente È nascosta Da qualche parte Lì intorno Ricorda Che potrebbe Esserci più Di una chiave Ok Quindi In Un plot twist Finale Qui dobbiamo cercare Tre chiavi Di avviamento Per prendere il rifrattore Quindi non sarà facile Come all'inizio Del gioco Ah bene Qui C'è un nemico Che ci darà Tanti soldi Quindi cerchiamo Di ammazzarlo Il prima possibile Oh beh Dai Dai No Niente soldi Ragazzi Vabbè Ci accontentiamo Del buco nel muro Hai trovato Dei rifrattori Bene Allora In realtà Sono dungeon Molto semplici Subgate Adesso li vedrete Non vi spiego Io più o meno Cioè praticamente Una volta che sai cosa fare Te lo impari a memoria Perché non è come un dungeon Per dire di un Di un Zelda Rilevo qualcosa Sembra una specie Di dritta rifiuti Cioè sono talmente semplici Questi dungeon I puzzle Una volta che li hai risolti Te li ricordi a memoria Per dire Io per esempio Se gioco Ocarina of Time Non è che mi ricordo Tutti i puzzle A memoria Invece qua Sono Pochini Quindi Ma secondo me Molto Molto belli Poi soprattutto Considerando Quando è uscito il gioco E adesso Non mi voglio ripetere Però caspita Secondo me Quell'anno Tra il 97 E il 98 Fa una grande differenza Proprio a livello Di sviluppo Di competenze Anche Del Comprendere Come programmare Un gioco in 3D Vabbè Zelda è stato Proprio rivoluzionario Però Insomma Secondo me Se vedete Altri giochi I famosi Per playstation 1 C'è una bella differenza Tra quelli usciti nel 97 E già quelli usciti Per dire nel 99 E sono due anni Però Trovato qualcosa? Rilevo un segnale È una chiave di avviamento Ce ne sono altre in giro Continua a cercare Continua a cercare Tra l'altro ragazzi Update Che vi do Il fatto che alcune volte Si tronchino Le linee di dialogo Alla fine È per colpa Di Diciamo Dell'emulatore Perché su hardware originale Va alla grande Invece Quello che non va alla grande Sull'hardware originale È Il lip sync Perché evidentemente Credo di aver fatto Sicuramente Avrò fatto qualche errore Quindi O l'emulatore Carica prima Le tracce audio E quindi Su emulatore Vanno alla perfezione Cioè Penso di aver fatto Un buon lavoro Con il Lip sync All'incirca Però Chiaramente mi sono basato Sull'emulatore Perché io L'ho giocato Sull'emulatore No? Per capire Come Se si andava bene La Come dire Il movimento Delle labbra Invece Su hardware originale Purtroppo È leggermente In ritardo La traccia Non so Forse Forse si troverà Un modo di sistemarla Questa cosa Ti ricordi la nostra Prima spedizione? Io ero ancora Alle prime armi E per colpa mia Rimanesti sotto terra Per tre giorni di fila Per fortuna Arrivò il nonno Ad aiutarci Senza di lui E saresti ancora lì Per cola mia Madonna santa Pure gli errori Nelle cazze Principali Vabbè Questo sarà da sistemare Ci sarà sicuramente Da sistemare Un sacco di roba Allora Non si apre La serratura La serratura È arrugginita Ok Vabbè Penso che si sia capito Che cosa dobbiamo fare Adesso purtroppo Vi toccherà Aspettare E Ah Intanto Voglio approfittare Per Per dirvi anche una cosa Che è successa Praticamente Ho avuto modo Di Di parlare Con il creatore Del tool Di cui vi dicevo Quello che ho usato Per tradurre i testi Che si chiama Ombra E tra l'altro Voglio dire Non è Un personaggio A caso Fa parte Insomma Dei Sadness Quindi Un gruppo Di traduzioni Che sono Famosissimi Quindi Dove sarà E quindi Praticamente La cosa che è successa È che Ho scoperto Scusate se mi Blocco ogni tanto Perché sono un po' Distratto Che praticamente Non aveva Lui ha creato Il tool Però Poi l'aveva condiviso Tra i tool Che si trovano Su RomMaking.net Quindi Io Praticamente Dato per scontato Che si potessero Utilizzare Che si potesse Fare una traduzione Sinceramente Ho proprio pensato Che per come è fatto Mega Man Legends Come vedete Tutte le cutscene Sono in game Quindi non ci sono Video che tu puoi Modificare Inserendo Dele scritte Mi sono detto Magari Il progetto è stato Abbandonato Il progetto di traduzione Perché comunque Se fai un tool del genere Evidentemente È perché vuoi fare Una traduzione Però Quando l'aveva condiviso Ho pensato Sarà perché Comunque sia Non se ne è fatto Più niente Insomma Quindi però Ovviamente Mi ha contattato Quando Quando ha visto Che comunque È stata rilasciata Una patch E E quindi poi Mi ha detto Che effettivamente Lui ci stava ancora Lavorando Infatti ci sono rimasto Malissimo Cioè mi è dispiaciuto Mi è dispiaciuto Veramente tanto Perché Appunto Se no io non avrei Neanche iniziato A fare la Diciamo Una traduzione Del gioco Cioè Sicuramente Sarebbe stato più figo Averlo Sabato Il gioco E non doppiato Però appunto Dato che le cazze Ne sono in tempo reale L'unica soluzione Che ho visto io Era doppiarlo Ho detto Beh magari Non c'è il budget Per doppiare un videogioco Magari ci metto Un po' di budget Io Qualcuno Qualche doppiatore Lo chiamo E questo è un progetto Che secondo me È figo farlo E magari finirlo In tempo Per quest'anno Perché quest'anno Diciamo La serie Legends Almeno Per quanto riguarda L'uscita giapponese Fa 25 anni Di Fa Praticamente 25 anni Di vita E quindi Niente Però Insomma ci sono rimasto Un pochino male Perché poi ho scoperto Che in realtà Era un progetto Che continuava Piano piano E E vabbè E questa è la parte Che un po' mi è dispiaciuta Non rilevo alcun Riverboss pericoloso Ma Non abbassare La guardia Ecco Ma poi La cosa bella È che effettivamente Insomma A questo punto Sicuramente ci sarà La possibilità Di fare qualcosa Per Per creare Che ne so Una versione definitiva Insomma Non so come dire Mi sono sentito Come se mi fossi Un po' intromesso In un progetto Che non era mio Però Appunto Io ho dato per scontato Che fosse stato Lasciato così Cioè Pensavo di portare avanti Una cosa Che invece Se no Non sarebbe mai uscita E Vabbè E di questo Mi è dispiaciuto Poi tra l'altro Non essendo programmatore Ho fatto una serie Di giochezze assurde No Aia C'è una barriera Come quella Dell'ultima volta Provo a cercare Un interruttore E Però insomma Niente ragazzi Penso che sia Alla fine Una cosa positiva Perché Ehm Ah Troppo lentamente Aspettate Rifacciamolo Penso che alla fine Sia una cosa positiva Perché Ci sarà Modo A questo punto Di Appunto Di 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 Migliorare Ancora la La pace Cioè Ovviamente La mia traduzione Non sarà perfetta Come quelle Dei Sadness Perché Cioè Diciamo la verità Io praticamente Ci sono cresciuto Con le loro traduzioni Non so se si nota Però insomma Un sacco di Giochi Soprattutto quelli square Per playstation Io L'ho recuperati Anche con le loro traduzioni Perché magari Ero piccolino D'inglese Non ci capiva Un tubo E Ottimo Torna al pannello Di controllo Quindi I was like Massimo rispetto Mamma mia Penso di essermi Anche un pochino Perso Con questo Discorso Però non lo so Ci tenevo a farlo Perché Poi mi sembrava anche giusto Che lo sapeste anche voi Che state guardando il video Che comunque sia A parte Del tool Che l'ha fatto Ombra Però in generale Che Se uscirà poi Una patch Riveduta E corretta Che sicuramente uscirà Perché poi Rigiocando il gioco Con un amico Ci siamo resi conto Che ci sono alcuni Alcuni bug Tra cui uno che fa Crashare il gioco È molto difficile Che lo becchiate Se volete solamente Completare il gioco Però insomma È anche quella Una delle cose Che andranno Sistemate E sicuramente Se posso contare Sull' Aiuto Comunque sia Se vorranno Darmi una mano Dei personaggi Così che io Cioè Non so come dire Li conosco Alla fine No Sono più che contento Ma andiamo avanti Con la storia Va Questa espressione Di Megaman Io la adoro Questa animazione Degli occhi E poi dai È stato bravo Proprio Megaman Tutto qui Strano Stupendo Allora Quindi abbiamo Trovato un rifrattore Cioè È stato easy Niente boss fight Tutto Tutto molto tranquillo Insomma Bene bene Poteva andare Molto peggio Invece Però Dobbiamo fare Una piccola sosta Prima di andare avanti Con la trama Wow Un rifrattore giallo È davvero grosso È ari dai Mamma mia Ho detto troppe volte Grosso in questa traduzione Bel lavoro Megaman Con questo possiamo fare di tutto Ma è troppo piccolo Allora Datti una regolazione È grande o grosso Cioè È grosso o piccolo Ma toh È troppo piccolo Per aggiustare la nostra aeronave Dimmi Tu hai qualche idea Su cosa potremmo farci Eh Anche questo è un po' fraintendibile Forse Maybe Allora Creiamo oggetti Dai Tadadam Ho usato grenade kit Per creare l'arma Grenade arm Ho costruito una nuova arma Questa spara le granate Ma se una granata colpisce O puro Rimbalzerà Perciò fai attenzione Ho usato spring set Per creare jump springs Che sarebbero Le super molle Mi pare che l'ho tradotto Vabbè Megaman Questa volta ho creato Qualcosa di diverso Delle molle Che ti permetteranno Di saltare più in alto Con queste Podrai raggiungere Un sacco di posti nuovi Ricordati di equipaggiarle Ecco Questa è la cosa Che vi scordo di fare Solitamente Di equipaggiare la roba Allora E Come vi ho detto Noi non faremo Tanta roba opzionale Non esploreremo Tanto le Le rovine minori Insomma Però Quello che dobbiamo fare Assolutamente E approfittare Di Di questa Area Che Ci connette Alle rovine Ecco Perché noi siamo nel subgate Ma passando di qui Finiamo Nelle rovine Perché Insomma Non mi ricordo Mi pare che ve l'ho detto Anche in un altro episodio Tutte le rovine Sono in realtà Collegate tra di loro C'è un enorme complesso Di Un enorme complesso Di Di labirinti Che si trovano In sottosuolo Dell'isola Cosa che io ho sempre Trovato molto Molto figa E Però Vi dicevo È comodo Perché qui Ci sono I soldi Quindi Solitamente Se voglio fare Una run Molto veloce Devo sempre passare qua Perché ci sono tipo Diecimila zenni Ecco infatti E Ci fanno molto comodo Se non vogliamo stare a A fare Grinding Insomma E noi non lo vogliamo Fare il grinding Insomma O almeno in questa run Non lo voglio fare Voglio solamente Farvi godere la storia E farvi vedere un pochino Anche il gameplay Però principalmente È la storia Che vi voglio far vedere Così poi Se vorrete giocarvi La Insomma La patch Potete farlo Ripeto Spero Spero che esca Presso Insomma Una patch Proprio completa Perché come avete potuto vedere Ci sono alcuni testi Che non Si trovano Nei file Insomma Che ho tradotto Con il tool Ma Che si chiama Dash editor Ma Ci sono Invece Ci sono Appunto Dei dialoghi Che si trovano Direttamente Nel Nel file Non so Nell'ex Credo Del gioco Quindi Ripeto Io sono Non mi reputo Neanche traduttore Però insomma Fan traduttore Ma non Programmatore Quindi Mamma mia Allora No no Parliamo con Roll Usa macchina Fatto stacchi Insomma Non erano tra i file Che potevo Sistemare io Con le mie limitatissime Conoscenze Allora O City Hall Facciamo prima A downtown Mi sa Ok Grazie Roll Allora Adesso Noi dobbiamo andare A Comprare Qualche Potenziamento Perché altrimenti Qua Andiamo Veramente Malissimo Quanto è bella Questa canzoncina Dell'Apple Market Allora Compra Che compriamo È Il laser È necessario Proprio Compriamo Lo sniper range E Compriamo Il flak jacket Che diminuisce i danni E Compriamo Tanta roba Dobbiamo comprare Compriamo Un po' Di life count E Ai 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 Non so quanto Ci abbiamo Nella tanica Ups Scusi signora Non volevo calciarla Zero su cinque Allora dai Compriamo Un altro pezzo Di tanica Ok Prego Dai un'occhiata In giro Ah Vabbè Proprio Easy Ma perché qui Le luci sono così Soffuse Per carità Fanno anche atmosfera Ma non si vede un cavolo È vero Dice questo Però Ho sentito dire Che stai esplorando I subgate Questo significa Che è una licenza Di classe A Wow Se avessi una licenza Mi addentrerei Nei subgate Per comprendere Il loro collegamento Con il main gate E Vabbè Direi che possiamo andare A nord Anche perché ragazzi Adesso noi abbiamo Delle Delle subquest Da Sì I subgate Quindi anche Le subquest Yes No no Volevo dire Delle sidequest Da completare Proviamo a parlare Un po' Con gente Voce bambino Quel ragazzo blu Ha salvato la città Che eroe Hai ragione Ma non è proprio Il mio tipo E vabbè Vuol dire che non siamo ancora Dei veri eroi Sentite le voci all'interno Questo dovrebbe essere Il ragazzino a cui piace Street Fighter Vai Ken Sterminali con un dragon punch Bam Boom Voce donna Piantala con i giochi E fila a fare i compiti Ottimo Vediamo In quali rovine potrei andare oggi? E... Non lo so Purtroppo ci sono Sono delle case Che forse Dovrei iniziare A riparare Ma ho usato Tutti i soldi Per equipaggiarmi Mamma mia Sono veramente Cattivo E... Andiamo alla centrale Di polizia No È ancora In costruzione Però Possiamo Andare Possiamo tornare Nelle pianure Yass Cosa dobbiamo fare Nelle pianure Yass Eh eh Ah Dio In realtà Non lo so Se lo possiamo Già fare Noi magari Facciamo un giro A vuoto Vabbè Dai Proviamo E se poi Non c'è niente Eh eh Avremo perso Un minutino Di tempo Allora Spero che ci sia Chi penso Che ci dovrebbe essere Perché Vediamo un po' Ah Eccoli qua Che bello Li abbiamo trovati Ciao Allora Aldo Oh Ci hai trovato Questa è la nostra base segreta Beh Ci stiamo ancora lavorando Ehi per caso puoi entrare Nella gang Ci farebbero comodo Due mani in più Ma se non ti va Non sei costretto Allora Ok ci sto Ma anche no Ok ci sto Fantastico Sapevo che l'avresti fatto Bene Ti nomino Procuratore ufficiale Procuratore nel senso che Ti dovrai procurare Gli attrezzi Necessari a costruire Alla base Per prima cosa Ci serve un piccone Buona ricerca Ok Già come che dici Quindi ora stai con noi Figo Procuratore ufficiale Pfff L'ho capito adesso Haha Mamma mia Eee Bene ragazzi Quindi In realtà abbiamo già Sappiamo già dove andare a trovare Il nostro piccone Sarà più facile di quanto pensiate Ehm Beh Comunque ragazzi no Ho solamente 5000 Zenni ma Eh un picconetti Presso il mio Ok grazie Ma credo proprio Che dovrei andare A riparare Anche la banca Così Perché mi fa brutto Vedere la banca Chiusa Giuro che prima Della fine del gioco Riparo tutto Però C'è proprio una cosa È una qualità È una qualità di Megaman Legends Farti sentire in colpa Se ti comporti male Mi ricordo che nel secondo capitolo C'è veramente un'interazione Che mi fa male al cuore Tutte le volte che la vedo In cui praticamente Megaman si comporta In maniera così cattiva Che Roll Proprio Disperata Sta sdraiata Nel letto E dice Ah Megaman Ma perché sei diventato Così cattivo E lui gli dice Stai zitta Cosa inutile E io so Dico no Ma che è sta roba È una cattiveria Incredibile E qui per fortuna Non c'è Cioè Il sistema della moralità È È molto secondario Però Però caspita Ti fanno sentire in colpa Ehi l'hai trovato Sapevo che ce l'avresti fatta Ok dammi il piccone Ci mettiamo subito al lavoro La nostra base sarà fantastica Torna più tardi Ok Beh Non l'hai fatto Ehi siamo veloci Ma non così tanto Aspetta ancora un po' Ok Giustamente E beh Noi torneremo qui Perché poi ci dà Anche un sacco di Di belle ricompense Insomma Per i nostri sforzi Però Ci vuole Un pochino di tempo Tra l'altro Anche questo sistema È molto figo Il Praticamente Quando C'è qualcosa da riparare O comunque sia Avete visto i ragazzi Devono usare il piccone Perché poi non ho capito Perché serve il piccone Ma Comunque sia Oh Ecco Tu sei Megaman giusto? Ti stavamo cercando Forza vieni Grazie al tuo contributo Abbiamo ricostruito Questo edificio Yeee Grazie mille Ecco Quello che stavo dicendo Proprio Che passano del tempo Effettivamente E si ricostruiscono Piano piano le cose Cioè Come se dovesse passare Effettivamente del tempo Questa era Centrale di polizia Meno male Poi Appena in tempo Perché io volevo fare Una site quest Ma Allora Sei Megaman vero? L'ispettore è dentro Entra pure Ok Oddio Questa è la ragazzina Sono Allibita Qualcuno ha rubato Le mie mutandine Le avevo messe fuori Ad asciugare Due minuti dopo Puff Sparite Che è vero Cioè Pure questa Non Mamma mia Ve l'ho detto Che in questo gioco Ci sono un sacco di Di reference Molto Meh Ispettore Tra pirati e terremoti Non c'è più Un attimo di pace Ho ordinato i miei uomini Di non abbassare la guardia Per il momento Vieni a trovarmi ogni tanto Potrei avere qualche Nuova missione per te Daie Ah Megaman Meno male che sei qui Vorrei chiedere Il tuo aiuto Per una certa questione Poco fa È venuto un piccolo Robottino giallo E mi ha detto Di aver perso qualcosa In centro Non credo di aver capito bene Ha detto che ha perso Tre cose E che dovremmo Scappare tutti O qualcosa del genere Non so perché Ma quel robottino Non mi convinceva molto Ti dispiacerebbe andare in centro Per assicurarti Che vada tutto bene Grazie mille Grazie Grazie che mi dà le missioni Mamma mia Mi ricordo che Insomma da Piccolo Quando ho Giocato per la prima volta A Legends Non avevo assolutamente idea Neanche che esistessero Queste missioni secondarie Credo di aver beccato Giusto quella Quella Uh Beh diciamo Ne ho beccata una Ma non ve la voglio spoilerare Perché ancora non Non l'abbiamo incontrata Sarà di questo Che parlavo rispettore poco fa Devo trovare altre due bombe Prima che esplodano Magari qualcuno Ha visto qualcosa Vai Cos'era quel rumore Sembrava una bomba Che esplode Ma allora Quella cosa che ho visto Sopra quella casa verde Era O no Aia Mamma mia Casa verde Casa verde Aiuto E c'è il terrore Che qua esplode tutto Allora Vediamo un po' Che possiamo fare Dai No Niente ragazzi Qui non vedo nulla Oh Ok Trovata bomba C'è un pulsante Disinnescato Ne manca una Eh Oddio Mica lo so Se la trovo Dove dovrebbe essere Quest'altra bomba Forse è l'altra parte Della città Vado Che ansia Oh eccola Mamma mia Che fortuna Trovata bomba C'è un pulsante Fatto L'ho disinnescata Ottieni Bomb E niente L'abbiamo trovata Tutte e due Vediamo che ci avrebbe detto L'altro signore Stai cercando qualcosa Sai Recentemente ho perso qualcosa Stavo aggiustando un tetto E ho dimenticato i miei attrezzi Sul tetto Mamma mia Ripetizioni Mi ho cercati ovunque Tranne che sul tetto Wow Mi sento tanto come Fraus Mamma mia Andiamo sul pianeta dei fiori A fare il contest dei fiori Mamma mia Oh bene Abbiamo fatto quello Che dovevamo fare Possiamo tornare Alla stazione di polizia E vediamo Se ci danno Qualche premio Magari Potrebbe essere Anche l'occasione Per ricevere Qualche soldo Chi lo sa Ispettore Zazza Oddio non gli assomiglia Per niente A Zazza Però Oh sei tu Megaven Ho letto il rapporto Sulle bombe Per fortuna Sei riuscito a trovarle tutte Hai salvato la città Di nuovo Grazie mille Non so Tra un dialogo E l'altro Mi sono sentito Molto ispettore Ok Andiamo ancora Un pochino avanti Ehm Sì dai Direi che possiamo andare Ancora un po' avanti Ok Allora Faccio una cosa Che non avrei voluto fare In questo In questo playthrough Ma la faccio Perché Perché mi sembra giusto Almeno per sbloccare Una nuova area Dobbiamo andare A parlare Con un certo personaggio L'artista Allora I quartieri alti Sono una specie Di area resort Della città Pensa che si affaccia Persino su un lago Puoi noleggiare una barca E navigarci Beh Figo Allora Al mio ragazzo Piace molto il lago Perciò noleggeremo Una barca E faremo una gita Sull'acqua Solo noi due Che Le rovine del lago Non sono un bel posto Per un appuntamento Che c'ha ragione La mia ragazza È appassionata d'arte Per questo ho deciso Di portarla con me Al museo Peccato che il museo È chiuso Quindi C'è un motivo Per cui è chiuso Io per esempio Quest'area Insomma L'ho scoperta Per caso Da piccolino Ehm Vabbè Parliamo con l'artista Vabbè Manca qualcosa Cosa credi Che dovrei aggiungere? Ehm Del talento Che cosa hai detto? Cosa odono le mie orecchie? Ripetilo ancora una volta Brutto Maleducato Cafone Strapizzente E vabbè Con questo personaggio Mi sono preso Una grande libertà creativa Cosa che Sicuramente Negli aggiornamenti Vorrei Diciamo Vorrei togliere Ehm Perché Penso che si sia capito Che l'ho doppiato Io Ma l'ho doppiato male Cioè a differenza Degli altri personaggi Che secondo me Sono anche abbastanza Decenti Questo non È veramente Terribile Ehm Solo che proprio Non avevo Possibilità Di chiamare qualcun altro Per farlo Questo personaggio Ehm Allora ho detto Vabbè Per il momento Lo faccio io Poi però Lo possiamo Anzi Lo dobbiamo È proprio una cosa Che ho scritto Anche nel file Che viene insieme Insomma Che Che ho inserito Insieme alla patch C'è proprio scritto Non vi preoccupate Lo ridoppieremo Perché questa cosa Va veramente schifo Ah sì Tu credi Beh Non ho usato il rosso Perché l'ho finito Ma In effetti È un po' scialbo Forse ci vorrebbero Dei colori caldi Bene Tutto questo Perché dobbiamo Iniziare poi Una Quel quadro Fa abbastanza schifo Ci vorrebbe Un tocco di colore Se l'artista Non li ha più Potresti andare A prenderli Al mercato Ma Noi ci andremo dopo Perché adesso Vogliamo andare avanti Con Con la trama Cioè Mi piace Sedermi qui A fissare il lago Tu ci sei mai andato Al lago? Sè Oh Allora sei già stato Nelle rovine Sull'isola del lago? No Faresti meglio E non entrare In quelle rovine Ma immagino che Qualunque cosa dica Tu andrai comunque Lo capisco Nei tuoi occhi Vedo lo stesso sguardo Che aveva mio marito Vedete È una cosa Molto bella Secondo me Che Sotto un dialogo Talmente Scemo Facile da perdersi Invece C'è comunque Sia C'è tutta una Back story Per un personaggio Che comunque Ha perso il marito È una cosa Abbastanza triste Tra l'altro Ma sai l'ultima? Qualcuno ha rubato Tutte le barche Ne hanno lasciata Solo una Vecchia E rotta E mannaggia Allora Salve Signore Con la bandana Cerchi una barca? Di solito Ne abbiamo molte Ma sei arrivato In un momento Particolare E vopo Anche io sto cercando Una nave Che? Per esplorare le rovine Ma quando mai? Io voglio solo andare a pescare In questo lago È pieno zeppo Di gustose trote Wiley Scusa Scusa Al momento Non ho barche Da noleggiare Qualche radruncolo Le ha rubate tutte L'unica barca Che mi è rimasta È una bagnarola Vecchia e rotta Ecco Questa è una delle cose Che fa impazzire La gente Che gioca a Legends Senza una guida O comunque sia Che non conosce bene Il gioco Perché sembra Che tu non puoi passare qua Invece Wiley ti ferma Una volta Ma poi comunque Puoi fare come ti pare Cioè Esci comunque E boom Ma il punto è che Fosse stata una cosa Secondaria Una cosa Non necessaria I fini di trama Ok Ma invece lo è Quindi Diciamo È una delle cose Che fa un po' più È uno dei fatti Più conosciuti Sul gioco Una delle cose Che non piace tanto Ai giocatori Wiley mi ha chiesto Di aggiustare questa barca Ma non so dove mettere le mani E poi Wiley È tipo un guru delle barche Se non riesce a ripararla lui Figurati io Giusto La nave è in buone condizioni Bisogna solo riparare alcuni circuiti E l'alloggio per il rifrattore Se avessi un rifrattore grande come il tuo Riparerei la nave in un secondo Chiama Roll Mi piace che poi lui dice La riparo io Ma la facciamo riparare a Roll Questa nave sembra davvero in ottime condizioni Ah, guarda Roll Sei sicura di quello che stai facendo? Diamo un'occhiata al motore Ma sì Basterà sistemare il trasformatore Collegarlo al nostro rifrattore E la nave sarà come nuovo Roll Che state combinando sulla mia nave, eh? Ecco, noi... Mega Man Mi passaresti la chiave inglese? Subite, Roll Ce l'ho fatta, l'ho aggiustata Mi perdoni, signore Non so cosa mi hai preso Ho iniziato ad aggiustare la nave e... Ti interessano molto i marchi ingegni, eh? Basta guardarti in faccia per capirlo Roll, la tua faccia è coperta di grasso Sono lieto che la mia nave sia stata aggiustata da una bella signorina come te Sapete che vi dico, potete usarla quando volete Con questa nave possiamo raggiungere l'isola Ma è fantastico Chiamami quando vuoi partire per l'isola Guiderò la nave per te Va bene? Ok Olè Bene, siamo arrivati Da Data Vabbè, sai che per usare la nave devi passare attraverso la porta sul retro della rimessa, vero? Sì Beh, poi mi piace che ce lo dice ma in realtà Cioè, ci siamo già Questo è il lago Jun C'è un subgate sull'isola al centro del lago Puoi arrivarci con una barca Bene, grazie Allora ragazzi Io sono un po' indeciso Potremmo provare ad andare avanti Sicuramente verrà fuori un video molto più lungo di quanto mi aspettassi Però mi piacerebbe provare ad andare avanti E finire insomma con il botto Ecco, quindi vediamo un attimo Intanto equipaggiamo tutte le cose che ci servono Allora, sicuramente ci serve il laser Il laserone E poi ci serve lo sniper range Io almeno mi trovo bene così Anche perché faccio veramente schifo su questa missione È la barca di Wily Chiamarò Megaman, sei pronto? Quando vuoi, Anna? Si parte Rilevo qualcosa sul sonar Stai attento Megaman Lo sapevo Guarda Sono di nuovo loro Allora Scontro acquatico Proteggi la barca dagli attacchi dei nemici Distruggi i siluri dei sottomarini rossi E i missili delle navi gialle Prima che colpiscano la barca Inizia la missione Wey Oh Mamma mia Diciamo che qui la cosa fondamentale è Bloccare Appunto I siluri E i missili Non ci interessa tanto distruggere le navi Megaman, davanti a te Mamma mia Mamma mia Prima di Mamma mia Megaman, dietro di te Non è proprio dietro Ma E vabbè Ci stanno colpendo Un pochino Cioè questa missione senza Ok Dicevo che questa missione È praticamente impossibile Senza il range booster Perché se non hai abbastanza gittata Non Non becchi niente Finché non arriva troppo vicino Sopra di noi Sopra di noi Sopra di noi Andiamo avanti Mamma mia Detto io Detto io Che sono una schiappa Che sono una schiappa A questo gioco Megaman, dietro di te Ah Ah Aiuto Ok 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 Chi c'è? Chi c'è? Che mi sono perso? No No C'è solo la nave Dai Esplodi Grazie Megaman Davanti a te Vediamo E Mamma mia Questa missione Ho sempre pensato Che dovrebbe essere Un po' troppo Anche quando magari Mi sono rigiocato Il gioco in modalità Easy Perché volevo fare Una speedrun Ma Sempre Questa missione È terribile Non mi piace Penso che sia L'unica missione Un po' bruttina Megaman Dietro di te Che altro Perché appunto È guidata Quindi non puoi Controllare In nessun modo La Diciamo La velocità Della barca Non Cioè Pure se finisci Di ammazzare Tutti i nemici Non Non è la possibilità Penso Di andare avanti Ovviamente È pensata così Non è che voglio dire Che sia È fatta bene Per quello che deve essere È il tipo di missione Che non mi piace Dove Sì Sì Ma Tu sei troppo vicino Infatti C'è colpe Allora Roll Dove ci stai portando Roll Che giro stai facendo Roll Abbiamo eliminato Tutte le loro navi Aspetta Rilevo qualcosa Attenzione Qualcosa di grosso Si avvicina Qualcosa di grosso T'ho detto Mamma mia Ecco che arriva Il nostro caro Moccioso blu Ero sicuro Che appostandoci qui Prima o poi Dovremmo incontrato Avanti adagio Avanti adagio Molto bene Non perderemo Non perderemo anche Le chiavi Non importa Una volta fatto fuori Il moccioso Il sindaco Cederà per forza Le nostre richieste Dobbiamo eliminare Quel rompiscatole Una volta per tutte È colpa sua Se il nostro piano originale È andato in fumo Me la pagherà cara Forma All'attacco Ma che mi prende Che mi porta se Se quello stupido muore Io Cosa devo fare Aia Aia Uff Questa è dura Non so se rischiarmela Sono troppi Così non ce la faremo mai Bisogna cambiare strategia Faccio il noob Vediamo Che facciamo Megaman Capiamo? Eeeh Che facciamo? Vabbè dai Restiamo Ok Megaman Prego di forte Non sarà facile Diciamo che è la cosa Peggiore da fare È solamente per non perdere tempo Ma in realtà Cioè ragazzi Se dovete giocare a Legends Io ve lo consiglio proprio Di scappare Perché vi ripristina la vita E ricominciate direttamente Da questo punto della battaglia Se morite Io me la sono voluta rischiare Infatti non so manco Se ce la farò Perché faccio veramente schifo A questo tipo di battaglia Cosa c'è? Se non fai attenzione Ti ritroverai come un missile super him Non mollano Tutto bene? Megaman Sei ancora lassù Vero? Bene Ok ragazzi Qui entriamo Ufficialmente in silenzio stampa Perché Devo concentrare State zitti Non è finita Abbiamo altri assi Nella manca Boss Non abbiamo più armi State calmi Non avrei voluto farlo Ma Preparate l'arma speciale Amma mia L'arma speciale Vai Dobbiamo bloccarla Prima che Abbia la possibilità Di sparare Parlato Dovremmo farcela Credo Vediamo Mamma mia La tensione Yes Missione compiuta Rapporto dei danni Qui sono motori Il motore principale È fuori uso La stile si sta allogando La buca idronica Si è rotta E le donne Le darie Pure tre Hanno preso fuoco Mi stiamo singillando Diesel Mi spiace Dovertelo dire Ma non credo Che il robot Leggerà ancora L'uomo E ora che si fa Padre Diesel Dobbiamo uscire Di qui E va bene Abbandoniamo la nave Perdonami Tron Dopo tutti gli sforzi Che hai fatto Per costruire Quel magnifico robot Che posso dire Oh Su col morale Diesel Non fa niente Torniamo all'aeronave E pensiamo A un nuovo piano Hai ragione Hai ragione Non è ancora finita Grazie ragazzi Non avrei potuto chiedere Due fratelli I migliori di voi Quel mocciosetto Vestito di blu Non ha scampo Non capisco Megaman ci ha sconfitti Ancora una volta Eppure Non sono affatto Arrabbiata Come mai E così Se ne sono andati Per il momento Eccolo i rovine del lago Puoi salvare? Intanto ricarica l'energia Vediamo se c'è qualcosa di nuovo Questo è il subgate del lago Jun Dovresti entrare E cercare un rifrattore Se invece vuoi tornare in città Ma è un rifrattore bello grosso Se invece vuoi tornare in città Ti basta salire sulla barca E bene Direi che A questo punto Ci fermiamo Abbiamo compratuto Contro Insomma contro i Bon E la prossima volta Continueremo Con il subgate Del lago Jun Io chiaramente Approfitto per dirvi Che se vi è piaciuta Insomma Vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi Se vi fa piacere E Boh Beh Se vi interessa la patch Chiaramente Scaricatela Anche se A questo punto Potreste anche aspettare E Insomma Giocarlo Quando sarà Completo Al 100% Quando sarà proprio Perfetta La patch Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi